Allora subito un monito, non facciamoci riconoscere, siamo comunque in teatro, lo so grazie, facciamo finta insomma di elevare i nostri cuori per uno spettacolo dove racconterò un po' del mio vissuto, della mia storia e sarà uno spettacolo intimo, solo pitarre e voce, come piace a voi, non so se piace a voi ma è così lo spettacolo, mi dispiace. Comunque è uno spettacolo in cui trasformerò una serata, anzi una notte, che sembra una notte come tante, in una notte speciale, anzi una notte romantica! Qualcuno ha studiato, molto bene. Stasera mia moglie è con le sue amiche, sarà una serata un po' malinconica. Bevo la mano, vado al videopoker, faccio quattro passi tra i negozi del centro, poi leggo l'insegna e dice così. Massaggio romantico per una notte romantica, davvero un bel posticino, con quel chiaro il diluvio. Massaggio romantico per una notte romantico per una notte romantica, davvero un bel posticino, sembra di stare a Pechino. Massaggio romantico per una notte romantico per una notte romantico per una notte romantica. Entro dentro e mi sorrido, buonasera signorina, piacere lungero, mi sento nudo sul lettino. Brrrr, che freddo! Mi frizionano tutto il corpo, poi mi fanno l'occhiolino e all'orecchio mi sussurrano. Così vuole massaggio romantico per una notte romantica. In preparato mi toglie, e cosa fa? Chi glielo spiega a mia moglie del suo massaggio romantico, di questa notte romantica, ma questa cosa l'apprezzo? Si, si, altro che, anche se c'è il sovrapprezzo, non ti fermare voi! Ecco il massaggio romantico, di questa notte romantica. Comincia il transgiovamento, da questo strofinamento, vai, vai, vai con un massaggio romantico, vai con una notte romantica. Ma quanto è brava la Cina, nell'arte della marina. Grazie. 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 Grazie.